Il comune di Oristano ha giudicato provvisoriamente l'appalto per la riqualificazione di piazza Ungheria. La piazza della stazione sarà riqualificata attraverso un insieme di opere che conferiranno all'area un aspetto rinnovato e una nuova fruibilità all'insegna della funzionalità e dell'efficienza, sottolinea il sindaco Andrea Luzzu. L'appalto è stato aggiudicato in via provvisoria in attesa delle consuete verifiche che precedono l'avvio dei lavori previsto per l'inizio del 2022 all'impresa Spano Legnami di Bortigiadas che ha presentato un ribasso del ribasso del 18,546% e pertanto per un importo di 773 mila euro oltre uniri sicurezza e IVA. La riqualificazione della piazza Ungheria rientra nel progetto di sviluppo territoriale viaggio nella terra dei giganti di cui l'unione dei comuni costa del Sinis terra dei giganti è soggetto attuatore. L'accordo di programma a quadro prevede la partecipazione della regione Sardegna del comune della provincia di Oristano. Il progetto punta a far compiere un deciso passo avanti nella mobilità integrata trasformando la piazza Ungheria in un punto di riferimento unico per gli spostamenti in uscita e in entrata nella città e verso l'interno della stessa cerchia urbana, precisa il sindaco Luzzu, oltre a rendere più ampia e articolata la possibilità di usufruire dei mezzi pubblici per i collegamenti con gli altri centri urbani dell'isola e quindi di agevolare il flusso turistico in arrivo dei porti e aeroporti della Sardegna e quello regionale composto in maggioranza da studenti e lavoratori si punta così a snellire il traffico locale grazie alla razionalizzazione degli spazi della piazza.